Sono sul piede di guerra i lavoratori della logistica e sanificazione in servizio negli ospedali dell'ex ASL Salerno 1. E' stato proclamato lo stato di agitazione dopo un confronto tra lavoratori e sindacati. Oggetto del contendere l'avvertenza aperta da sette anni e mai chiusa con la definitiva approvazione del contratto full time, cosa che di fatto in molti già fanno operando in regime di lavoro straordinario. A scatenare le ire dei dipendenti del CNS ci sono anche però alcune nuove assunzioni da parte del Consorzio per la gestione delle pulizie nel polo oncologico paganese. Per i dipendenti e per il sindacato ci sarebbe odore di politicizzazione. Accusa però rinviata al mittente dai vertici aziendali. Ma se non c'è un problema di trasparenza e dunque non si tratta di assunzioni politicizzate, perché il direttore generale Antonio Squillante non accetta di incontrarci, si chiede Antonio De Michele, responsabile della FISA SCAT CISL. La denuncia del sindacato comunque avrebbe avuto gravi ripercussioni sul personale. Le paventate 15 assunzioni infatti sarebbero sfumate. Qualcuno ieri mattina non si è presentato proprio a prendere servizio, qualche altro sarebbe ritornato a casa. Questo mi amareggia, continuò De Michele, perché il sindacato non è contro le assunzioni. Chiedeva solamente più trasparenza. Il sindacalista neanche per il CNS. Alla luce della delibera ASL che aumenta alle ore, il Consorzio Nazionale Servizi dichiara ha disposto l'avvio dell'alto rischio. Lo fa ancora una volta, continua De Michele, eludendo il confronto con i lavoratori e i sindacati e soprattutto senza che venga definita l'avvertenza in sospeso da lungo tempo. Una situazione complicata insomma che potrebbe degenerare in uno sciopero se non arriveranno le opportune rassicurazioni per gli addetti alla logistica e sanificazione. Buone notizie invece sul fronte Refezione Ospedaliera. Domani pomeriggio ci dovrebbe essere un incontro tra i dirigenti della GEA e i sindacalisti per definire le modifiche all'organizzazione del lavoro con il relativo aumento orario in modo da consentire un migliore servizio.